Siena Siena non è solamente la terra della grande tradizione vitivinicola, grazie a realtà come la cooperativa Diana, che produce orzo utilizzato poi per dar vita a una speciale birra che non è soltanto artigianale ma anche agricola, poiché è frutto di una filiera corta che porta sul mercato una birra quasi al 100% made in Siena. La filosofia è la trasparenza, la genuinità del prodotto e pensiamo che l'avere accorciato la filiera, riportandola appunto per oltre il 70%, 75% lo scorso anno, all'interno del territorio sienese possa rappresentare un bel marchio di fabbrica per quello che è il prodotto. Dal 2016 la cooperativa ha messo a punto una nuova ricetta, che prevede l'utilizzo del fagiolo zolfino della penna, prodotto d'eccellenza con presidio slow food, usato per dare più corposità alla birra. Oltre a questa specialità la Diana realizza anche una particolare birra al miele di Erika, già premiata nel 2016. La birra al miele di Erika diciamo è un nostro cavallo di battaglia, ha vinto due riconoscimenti a livello italiano e a livello europeo, soprattutto quella a livello italiano è stato quello un pochino più sentito da noi, perché era il primo anno che partecipavamo alla fiera di Rimini della birra italiana e tutto, avevamo portato solo quella birra e ci hanno riconosciuto subito l'ottima qualità di questa birra, fatta con un miele molto particolare che è il miele di Erika che producono qui vicino a Montalcino.